L'articolo 11 della Costituzione italiana ci dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controverse internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Se ti sedessi su una nuvola, non vedresti la linea di confine da una nazione all'altra né la linea di divisione da una fattoria all'altra. Peccato che tu non possa sedere su una nuvola.